Siamo arrivati alle 19.000 coppe finalmente ragazzi E ragazzi ho dovuto scegliere i dole tra Ambra, Sandy e Maggie Io ho scelto ovviamente Ambra perchè mi trovo bene con lei E perchè l'ho provata ragazzi E nella prossima sceglierò Chester Perchè io lo amo se vuole ragazzi Comunque siamo arrivati alle 19.000 coppe E ragazzi poi faremo dei video per arrivare alle 20.000 coppe ragazzi Ciao